buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati su questo canale e buongiorno di nuovo ancora oggi siamo qui in collaborazione con melli benissimo sperando che si senta l'audio perché stiamo registrando col suo telefono perché io ho dimenticato la mia roba a casa quindi se ci tocca registrare con il suo telefono cosa sarà questo video presentalo tutto questo video abbiamo pensato io e Paolo di registrare questo video per parlare della pre stagione di 1 a 1 che è la stagione che verrà e come i piloti arrivano il timone del 2018 di tutte le novità e i cambiamenti che ci sono stati dove vogliamo partire io pensavo di partire dalle appunto dai piloti da dare un voto alla stagione del 2018 dei piloti e dei team e poi vedere come arrivano nel 2019 la Ferrari come è andata quest'anno la Ferrari quest'anno è partita a bomba però poi Vetta ha fatto troppi errori quindi si si poi soprattutto quando eravamo arrivati Okinaimring nella sua pista secondo me era l'occasione per vedere anche psicologicamente chiudere il mondiale si poi era secondo me anche troppo si è sentito sotto pressione si è sentito secondo me troppo spinto a voler vincere nella sua pista e allora si è trovata a fare quell'errore stupidissimo che gli ha fatto finire in ghiaio non era poi così bagnato cioè alla fine sarà quasi asciugata la pista no si c'erano i punti in cui era bagnato i punti in cui non è ancora secca la pista c'è l'asfalto e la sera io eravamo le slick quindi purtroppo no non è io a Vettlidon un 6 perché ha vinto le sue belle gare però ci aspettavamo più da lui come voto generale io darei un 7 però io do una cosa io vorrei dare anche voto a Raikkon io a Kimi gli darei 8 perché comunque ha fatto la sua migliore stagione da poi non tornare in Ferrari Kimi allora pensandoci sì ha fatto secondo me una buona stagione io gli abbasso un po' il voto perché soprattutto a Monza che secondo me è stato più un problema di team che di Kimi beh c'è da dire che secondo me non hanno preparato la partenza no poi la Ferrari ha sbagliato perché le ultime news che ho letto che arriva bene ha detto a Kimi che è il giovedì giovedì sera ha detto che lui era fuori dal team per il 2009 lì se poi ripulisse magari hanno voluto cioè ha voluto proprio dire voi non mi volete allora io faccio quello che voglio lì però sì effettivamente è stato un pochetto scorretto è stata gestita male esatto anche perché se si fossero organizzati sarebbe stata la cosa migliore come ha fatto la Red Bull alla partenza di qual'era Austria mi sembra il GP di Austria no che si erano i primi secondi o Red Bull o Mercedes adesso non ricordo bene comunque sì quella c'è stata una partenza che si sono preparati in maniera davvero tattica secondo me anche giusta ah sì in Francia in Francia giusto per concludere io a Kimi vi darei un bel 7 più niente di meglio per la concludere vi darei un bel 8 perché si voto studeria hanno fatto una gran macchina quest'anno è una bella macchina affidabilità perfetta perché non ho mai avuto problemi tra l'ultima gara con Kimi ma per il resto macchina perfetta e secondo me sono curioso il prossimo anno non vorrei farlo ma il prossimo anno potrebbe essere l'anno giusto allora voti positivi di questa Ferrari di quest'anno secondo me sì ottima macchina però do noto anch'io unico problema che ogni tanto mancava la strategia sinceramente la strategia ogni tanto è mancata ma questo ne parliamo dopo del Team Principle no ma lì giorni fa sì giorni settimana fa adesso non so quando pubblicherò questo video però sì il passaggio da Riva Bene a Binotto quindi Sebastian Vettel è arrivato il game che si può fare in una virtuale safety car è che la pit lane non part Hamilton ha bisogno di aderire a la virtuale safety car time Vettel non aveva bisogno di aderire a questo perché è sotto la pit lane rules e regolazione e è ahead ora di Lewis Hamilton Sebastian Vettel che viene a venire l'Australia Grand Prix Ferrari prende l'opera salvo è una strategia è un'altra volta però guarda è in questo slipstream DRS non è che Hamilton può fare di questo è un'altra cosa can hear the cheers from the grandstands di Sebastian Vettel Kimi Räikkönen in e e è un'altra cosa oh no oh no Kimi Räikkönen out e ha hit uno di meccanici Sebastian Vettel wins il Bahrain Grand Prix il numero uno i telli i i questi direzzi erano 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 grazie ragazzi mamma mia mamma mia grazie grazie davvero è un'altra cosa I have some issues. I lost power. Nothing happened. I have no problem. Stop the car, Kimi. Stop the car. He will retake the championship lead. Sebastian Vettel wins the Canadian goal. P1 Sebastian. P1 grande vittoria. Bravissimo. Grande lavoro. Grande. Grazie mille. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie mille. S***. 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 Safety car deployed. Sebastian Vettel, Esteban Ocon and Sergio Perez up to the top of the Radeon. Magnussen has made up places at the start. But here comes Sebastian Vettel. He's their connect with Lewis Hamilton. Vettel is alongside and ahead. Ocon is also ahead. There are four abreast going into the top. Vettel ahead of Hamilton. Ahead of Perez. Ahead of Ocon. Ahead of Verstappen. Wow. Safety car is out. Kimi's got a puncture. Kimi has got a puncture. This is not a sight you would want to see. If you're a fan of Kimi Räikkönen retiring from the Grand Prix on lap 9 of this race. And wins the Belgium Grand Prix for Ferrari. Ahead line. Smells day. Spells danger. Grazie. Grazie. Thank you. Good effort. Horrible flat spots on the front tires of Kimi Räikkönen. They're side by side. Look at Hamilton. Alongside Vettel. Oh, so close. He'll struggle. And they touch Martin. Hamilton and Vettel has been spun round. Disaster for Sebastian Vettel at the start of this race. He touched with Lewis Hamilton going through the chicane. Hamilton came off first. Sebastian Vettel has been spun round. Sebastian Vettel losing places. He's down in 18th. Two into one wouldn't go. Hamilton hanging around the outside. And somehow it's Vettel that went around. Sass goes past Hamilton. Sebastian Vettel. Will he go past Hamilton or not? It's going to be wheel to wheel. Going into the second corner. Hamilton on the inside. Sebastian Vettel round the outside. Sebastian Vettel gets past Lewis. Hamilton through. And smooth goes Sebastian Vettel. And Max Verstappen. And Sebastian Vettel has come on. And he spins Vettel around. Crofty just watching the move. Vettel was nowhere. Looking far behind him. Vettel is now past Riccardo. Can Riccardo fight him back? Vettel out broke himself just a little bit. And it's now going to be nip and tug as there's more contact. Down at turn 12. And another car spinning off. As Riccardo into Sebastian Vettel. And they've rammed each other. Sebastian Vettel's time in 113 races. The chequered flag for him as a winner. Kimi Raikkonen wins the US. And that's Charles Leclerc on Kimi Raikkonen. Leclerc's been right on Raikkonen's tail. And that is the Ferrari of Kimi Raikkonen. Pulling over and parking. And his final race for Ferrari ends on the pit straight. Car number 44 has really been the number one once again. He comes home to win the Abu Dhabi Grand Prix. And to crown a championship winning season. With victory in the final race. The points in his Formula One career. Champ. What a career. You're a champ. Let's go win the Triple Crown. Yes. Get it there Lewis. What a way to Seattle 2018. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're coming to Bercella. I'm coming to Bercella. I'm coming to Bercella. I'm coming to Riddell. Grazie a tutti.